Le immagini possono andare a San Siro, potremmo avere il Cuccio, potremmo avere il Cuccio subito, ce l'abbiamo qui, allora la teniamo noi nella linea. Cuccio, hai esultato davvero più di un ultra, questa coppa la volevate, la volevi, te la tieni stretta, insomma che sensazioni sono? Sì, sicuramente abbiamo esultato, abbiamo sofferto, io avevo detto prima della partita che un calciatore lavora tutto un anno per arrivare a uno scudetto, ma credo che a volte si lavora una carriera per arrivare a una Champions League, non è un traguardo facile, non è facile tutto quello che abbiamo fatto questa stagione ed era coronare una stagione storica e lo sapevamo tutti prima della gara e siamo riusciti a farlo anche noi. Senti, Murillo disse che la coppa dei dettagli dipende dalla fortuna, voi però l'avete vinta strameritandola, quasi come se fosse un campionato, avete battuto tutte le squadre più forti dell'Europa. Noi ma sicuramente siamo stati bravi anche nei dettagli, momenti delicati, siamo riusciti a sopportarli, a venirci fuori, quindi questo è una grande soddisfazione, l'abbiamo vinto bene, abbiamo vinto contro le migliori squadre, abbiamo vinto contro i campioni di Spagna, i campioni di Inghilterra, i campioni di Germania, quindi vuol dire che è veramente una Champions League. Cosa è stato vincere al Bernabeu per te? Felicità perché c'erano tanti amici miei, entri una che abitano a Madre, felicità perché c'era la mia famiglia, sia mia moglie, mia figlia come anche i miei genitori venuti da Argentina. Grazie Cuccio, ciao.